è dicembre ma non fa così freddo natale caldo c'è appena arrivata una chiamata è sempre la stessa chiamata buongiorno buongiorno adesso facciamo il racconto della chiamata buongiorno senta posso scritta marcatura ce e siamo stati fuori noi mi è venuta fuori lei la posso chiedere domanda delle domandazioni dica io ho comprato una macchina che che gira e riconosce degli oggetti bello tipo un laser scan le difficili io ho chiesto a quello che me l'ha venduta che lei mi disse la certificazione CE ma della macchina singola c'è una macchina sola sono tante macchine e tante macchinette e lei mi ha detto no non faccio io ti do tutte le carte di ogni macchinetta e mi ha mandato tutte le certificazioni sono a posto vero no no perché tante CE non fanno un grande CE quello che ti vende l'insieme di macchine ti deve dare l'insieme di macchine oppure ti devi dire che non è un insieme o di qua o di là se va contro la direttiva macchine il contratto è nullo basta un buon avvocato non lo ringrazio sai adesso adesso glielo chiedo basta un buon avvocato perché è un obbligo di legge nessun contratto tra le parti può andare contro una legge dello stato italiana non è posso dire a quel signore che la chiami qual'è la legge dell'ossetto italiano il ricepimento appunto mi sembra di essere della lega 17 2010 cioè la direttiva macchina però italiana prima 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 gli italiani ciao